Ecco dentro al mio piccolo mondo, è un velo d'uncazzo. E' un velo d'uncazzo. Amén. E' un velo d'uncazzo. Allora... 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 Grazie. 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 Porta su. Porta su. Porta su. Anche dico che si sapeva. Adesso facciamo. Accompagna. Leccemente. Non ci fai di cuore. Accompagna. Leccemente. Vai, vai, vai. Sali. 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 Sali ancora. Sali ancora. Sali ancora. No. Fermo, fermo. Attirate il cavo. Stai al limite del cordino. Ok. Allora. C'è il cavo di la massima così? Allora ti avrà così. Ci dovrebbe abbassare. Non viene recuperato. Se vuoi c'hai altri... Un altro mezzo metro. Se dai il cavo giù. Va bene. Tira su. Ok. Rega così. Se no aspetta. Forse... Ma ti serve ancora Adri? Se ti serve ancora possiamo recuperare il cordino. No. Dovrei iniziare al primo paio. Tanto che... Adesso. Stando... Hai cappato il... 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 Il pacchetto di... Il... Il pacchetto di... questa cosa qua se te guardi le altre due cose dove arrivano la terza la metterai quanto è il percorso? come la settimana di fisica? vabbè, c'è un primo lo chiedo di io c'è tutto l'altro, l'altro chiedo di me perché l'altro qua non lo so 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 ragazzi, sono queste corte ma lei la ha anche queste, sì ok allora, scendi uno di questi due rocchettoni e c'è anche lì allora 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 Ragazzi, noi dobbiamo lavorare in questa comodità, queste due attenti, io che faremo, no? Voi mettiamo queste corde che avete, la, 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 la è legata? è legata? è legata ok dai Riccardo fa e non fa poccare questa cosa mentre Riccardo ci porta il sangone e il resto di noi noi l'accompagniamo questo top qua l'accompagniamo e non fa questa più ok questi non sono i venti o sono i venti o sono i venti oppure che ah questo non è non è il primo no 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 questi viene no no ok ok no non sta su ok ok quando sta su vai 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 ok passa sono qua per farlo provate la no No, questo no, questo non c'è tanto No, non c'è tanto No, non c'è tanto Dobbiamo comunque un ricordo Sì, è fuori Non so, io vorremmo tirare giù No, non c'è Perché da fuori No, non c'è Allora Allora, che facciamo? Allora, decidiamo che fa la camera Parallelepipedo O vogliamo farla strombata Traverso Italia Eh, ossento Ci vogliamo farla Parallelepipedo O noi vogliamo farla strombata Traverso Italia No, perché se si è strombata Se è strombata Se è strombata Ok Abbiamo detto tre anni in mezzo No, quattro Quattro Segnate Segnate Tu me li qua Segnate qualche cosa Più lì Qua Più lì Più lì Più lì Più lì Più lì Senta cosa qua Dove Dove Che se è strombata Adesso Allora Allora Adesso 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 Andiamo a prenderli Verete conto che Questa Questa Cessione qua Tra due mesi Cento E quindi Io penso Che se non è andato Adesso La domanda di piena La domanda di piena La domanda di piena Siamo arrivati Tutti l'alto Grazie. 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 però siccome ci dobbiamo fare luci, non sappiamo se viene dall'altro magari questa valore e allora non mettiamo fuori, intanto il principio stesso, ok? Vai, brocca! No, questo è qui, ah oh, non ti dai che non è qui, guarda bene per fare queste... Ah, è stata la scena, è stata la scena Guarda le... le tessite Questi stessi due piccini, poi ci sentiamo l'altro Questo metto sotto così va, il piano Ecco, lo so Ehm... 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 Così No, però, se stessi, mi lasciamo sentire, se ne la metti, se ne la metti Quindi, perciò, perciò Ehm... 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 Mettere il piano Aspetta il piano Oh... Ehm... No, va bene, una qua Due, due E' un'altra parte. 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 Ok. E' un'altra parte. 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 e un'altra parte. E' 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 un'altra parte. e un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. E' 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 un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. E' un'altra parte. e un'altra parte. e un'altra parte. dunque, e un'altra parte. 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 adesso, e un'altra parte. per... e un'altra parte. 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 secondo me, e un'altra parte. 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 e un'altra parte.